800 00 00 39 il numero verde ampal che risponde sulle politiche attive per il lavoro messo a disposizione dalla fine del 2016 è un numero verde a cui si affiancano una casella di postal un dialogo via social e prossimamente anche una chat con i 24 operatori del centro cosa chiedono i cittadini soprattutto danno la propria dichiarazione di immediata disponibilità il 23 27 per cento l'assegno di ricollocazione l'incentivo di occupazione sud e mezzogiorno la riforma delle politiche attive dei servizi per l'impiego si inquadra in un contesto più ampio di riforma del mercato del lavoro e di passaggio delle tutele dei lavoratori dal posto del lavoro nel mercato quindi meno vincoli diciamo alla cessazione ai rapporti di lavoro ma il tentativo di dare più tutele più aiuto ai lavoratori nella transizione da un posto di lavoro all'altro 800 00 00 39 politiche attive a chiamare sono soprattutto i cittadini della lombardia 18 per cento lazio 16 50 seguiti dalla campania 13 per cento in italia la fascia d'età dei nit va dai 15 e 29 anni per ragioni legate alla situazione di maggiore difficoltà in cui versano in italia i giovani rispetto ad altri paesi europei un canale di informazione e di supporto per tutti coloro che vogliono avere informazioni rispetto diciamo alle misure di politica attiva o comunque ai servizi che ampal ampal offre a tutti coloro che fanno parte della rete quindi non soltanto cittadini ma anche operatori come le agenzie per il lavoro come i centri per l'impiego ma anche le imprese il 47 per cento degli italiani a competenze digitali di base oltre il 30 per cento di loro non accede abitualmente ad internet da qui la necessità di un numero verde il numero unico per il lavoro è sicuramente una best practice di ampal e del format quindi un ottimo esempio di collaborazione tra amministrazioni il contact center il vero e proprio centro per l'impiego virtuale quindi l'assistente che ampal mette a disposizione degli operatori dei centri per l'impiego degli operatori di patronato dei datori di lavoro dei cittadini grazie Grazie a tutti.